Trenitalia informa, alla gentile clientela, che viaggiare senza biglietto o con biglietto non obliterato, comporta una sanzione di 100.000 calci in culetto dal controllore. Avvisiamo i passeggeri del treno alta velocità fraccia rossa, 99 99 99 99 99, tumbula, delle ore non si sa, proveniente da nessun posto, è diretto da qualche parte, non arriverà mai perché è rimasto bloccato al concerto di sciva, ci scusiamo per il disagio. Avvisiamo i passeggeri del treno circunvesuviana, delle ore non si sa, proveniente da Sarno, è diretto a Napoli, non circolerà perché il macchinista e il capotreno devono finire di vedere la terza puntata di Mare Fuori, ci scusiamo per il disagio. Avvisiamo i passeggeri di non cercarsi di collegarsi alla rete wifi del treno alta velocità fraccia rossa, perché il macchinista, è già collegato con 3 computer, 10 smartphone e stava facendo degli aggiornamenti di sistema, non ci scusiamo per il disagio, prendetevela col macchinista. Il treno Arenaways, fermo al binario 7, non serve ad un cacchio e fa schifo. Meglio Italo e Trenitalia. Avvisiamo i passeggeri del treno frecciabianca, delle ore 11, diretto per Trento, è in ritardo di 200 minuti, per far giocare i ragazzi con la neve trovata durante la tratta ci scusiamo per il disagio non troppo però. Avvisiamo i passeggeri del treno intercity notte, delle ore 22, proveniente da Milano centrale, è diretto a Salerno, è in arrivo al binario 5 con 193 minuti di ritardo per indisponibilità delle carrozze notte, che forse manco presenti nel convoglio, vi scusiamo per il disagio. Avvisiamo i passeggeri del treno espresso, delle ore 17 e 40, proveniente da Vienna, è diretto a Roma Termini, arriverà con un ritardo previsto di 174 minuti, in quanto qualcuno ha colpito gli asini ed è dragliato, ci scusiamo per il disagio non troppo però. Grazie a tutti, grazie a tutti.